Sembra che il governo italiano stia cambiando la sua posizione su Huawei, venendo incontro alle preoccupazioni degli Stati Uniti. Il ministro Di Maio ha chiesto regole comuni europei sul 5G. Per voi è abbastanza e sufficiente? Siete soddisfatti? Perché siete così tanto preoccupati? Aspettiamo di vedere come si procederà esattamente. Ma per noi Huawei rappresenta una minaccia alla sicurezza. I cinesi, il partito comunista cinese, avrebbe accesso al nucleo dei loro centri nevralgici. Noi non possiamo permetterci che agli scambi così importanti che abbiamo con l'Italia attraverso ogni canale possa avere accesso a un'altra parte. Il segretario Pompeo ha chiesto alle Nazioni Libere di trionfare sulla nuova tirannia cinese. Perché la Cina è così pericolosa? La Cina è un paese interessante. Generalmente è definito pericoloso per le sue azioni. Hong Kong è un buon esempio di un'azione intrapresa dalla Cina, per cui il paese può essere definito molto pericoloso. Non è il popolo cinese. Ci sono un miliardo e trecento milioni di cinesi. E c'è però il partito comunista cinese che intraprende azioni nel Pacifico per assumere il controllo di isole che sono territorio internazionale, che viola l'accordo che il Regno Unito aveva con la Cina su Hong Kong, che attua il furto di proprietà intellettuale causando danni economici ad altri paesi. Tutto questo la rende pericolosa. Ce n'è abbastanza che possa essere portato come prova dall'Italia, da altri paesi europei, dagli Stati Uniti, nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove la presenza cinese finisce per creare svantaggi ad altri membri di queste organizzazioni. Rappresenta un pericolo significativo. Ma speriamo ci sia un'opportunità per cambiare il modo in cui opera, in modo che ci sia un soggetto che partecipi in modo costruttivo allo Stato di diritto a cui aderisce il resto del mondo. Cosa pensa della risposta italiana alla pandemia di coronavirus? L'Italia può essere considerata un modello? Sono stato qui durante tutto il periodo della pandemia. Dal giorno in cui ho messo piede in Italia e anche prima ho provato un grande affetto per il paese. Vivendo qui durante il Covid-19 ho affiancato all'affetto un'incredibile ammirazione. Il popolo italiano è molto indipendente e forte. E' convincente e allo stesso tempo indipendente. Ma ha ascoltato unito il governo. Il presidente Conte, il ministro degli esteri Di Maio, il Parlamento ed il popolo hanno agito uniti, tutti insieme. E così hanno abbattuto questo virus maligno meglio di chiunque altro finora. L'Italia è un grande esempio di cosa fare. E sono fiducioso che gli italiani continueranno ad essere un esempio in prima linea, in questa crociata. Di recente lei ha avuto un incontro con il presidente dell'autorità portuale di sistema dell'Adriatico, Musolino. I porti italiani sono un asset per molti paesi. C'è un spazio per una collaborazione tra gli Stati Uniti e l'Italia su questo fronte? I porti sono una parte cruciale delle infrastrutture dell'Italia. Ci sono tanti porti, grandi e importanti. Di recente ho visitato Trieste e Venezia e sono stato a Genova. C'è il timore che i cinesi vogliano entrare nei porti e nelle infrastrutture più importanti. Hanno avuto successo in altri posti e c'è preoccupazione per la sicurezza di questi porti. In Italia c'è l'impressione che gli Stati Uniti non abbiano realmente deciso se giocare un ruolo decisivo in Libia. Siete preoccupati che il paese possa trasformarsi in un terreno di scontro tra Russia e Turchia? Qual è il ruolo dell'Italia? La Libia è importante per la pace. Il dossier di immigrazione lo è per l'Italia e per tutta l'Europa. Gli Stati Uniti ne sono consapevoli. Stiamo lavorando in cooperazione con l'Italia per cercare di capire come negoziare per far sì che la Libia resti in mano ai libici e per fermare l'immigrazione. Parliamo con una voce forte e c'è una comunicazione costante con l'Italia sulla Libia che deve continuare. Speriamo che Russia e Turchia risolvano e si decidano a lasciare la Libia. Lei sta in Italia adesso da tre anni. Cos'è che le è piaciuto di più del nostro paese? C'è qualche artista italiano, intellettuale o politico che le piacerebbe incontrare? Se si potesse fare un miracolo vorrei incontrare Leonardo. È facile dire la cosa che mi è piaciuta di più dell'Italia. Il popolo italiano è così accogliente. Io non parlo italiano. Lo sto imparando. Siamo stati accolti così bene. Il popolo è così caloroso. È facile vedere come l'intelletto di Leonardo, dell'impero romano o della cultura, siano nati da un popolo che ha tali qualità intellettuali. L'Italia continuerà ad essere un paese in prima fila. Grazie mille, signor Ambassador. Grazie.